Con il ritorno delle lezioni in presenza per le scuole superiori, l'ASPE di Siracusa ha organizzato per questo fine settimana in collaborazione con i sindaci e i dirigenti scolastici altre postazioni di drive-in per l'esecuzione dei tamponi rapidi agli studenti e al personale degli istituti scolastici superiori. Le postazioni saranno allestite nei seguenti comuni. Oggi a Sortino dalle 14.30 alle 17 nell'area dell'Istituto Columba. Domani 6 febbraio a Rosolini dalle 9 alle 15 presso l'area Protezione Civile e a Siracusa sempre oggi nell'area di Contrada Pizzuta. Domenica 7 febbraio i drive-in saranno allestiti dalle 9 alle 15 a Floridia nell'area dell'Istituto Leonardo da Vinci. Ad Augusta invece presso Punta Izzo e a Siracusa sempre nell'area di Contrada Pizzuta. Intanto i contagi in Sicilia sono sotto gli 800 secondo i dati di ieri alle 18 del bollettino del Ministero della Salute. I numeri vanno gradualmente a migliorare. I nuovi positivi in Sicilia fino a ieri sono stati 789. Gli attuali positivi arrivano quindi a 40.654, 468 in meno rispetto ai dati di mercoledì. Numeri che emergono da 9.893 tamponi molecolari effettuati e 12.484 quelli rapidi. Meno 6 per le terapie intensive quindi da 193 a 187. I ricoverati covid da 1510 a 1473 quindi 37 in meno. Sono 1233 il numero dei guariti dal virus. Diminuisce il numero dei morti in tutta la Sicilia 24 deceduti. I nuovi positivi nelle varie province siciliane sono 315 a Palermo, 211 a Catania, segue Siracusa con 63 nuovi positivi, 61 a Trapadi, 49 a Messina, 36 a Caltanissetta, 34 ad Agrigento, 10 a Enna e 10 anche a Ragusa. Il numero dei vaccini somministrati in Sicilia è di 188.546 dosi. Si ricorda che i numeri si riferiscono al bollettino del Ministero della Salute di ieri alle 18.